Un vero e proprio colpo da professionisti, quello messo a segno nella notte in un supermercato a retino. I ladri acrobati infatti prima hanno bucato il tetto, poi si sono calati all'interno del locale ed infine hanno svuotato la cassaforte. In azione molto probabilmente non un ladro solitario ma un piccolo gruppo di persone, tre o forse quattro, che nulla hanno lasciato al caso. I malviventi infatti si sono intrufolati dal tetto dopo aver fatto un foro, hanno disattivato il sistema d'allarme ed una volta dentro sono andati dritti alla cassaforte sventrata con un flessibile. Con il bottino circa 8 mila euro, infine i ladri si sono dileguati nella notte facendo perdere le loro tracce almeno per ora. La mala scoperta è stata fatta al mattino successivo dai dipendenti una volta riaperto il supermercato che si trova nell'immediata periferia a retina lungo la strada regionale Umbro-Casentinese. Sul posto squadra mobile della polizia di Stato e scientifica che stanno portando avanti le indagini. Oltre alle tracce lasciate dai ladri, residui del raid o utensili eventualmente rimasti a terra, saranno preziose le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non è la prima volta che il supermercato finisce nelle mire dei malviventi. Circa un anno fa era stato messo a segno infatti un altro colpo. In quel caso i ladri riuscirono a portare via circa 1000 euro dalle casse del grande magazzino.